Ciao a tutti, bentornati sul canale! Allora andiamo a vedere un nuovo unboxing musicale, andiamo ad aprire qui, vediamo Deep Purple che ci portano ben tre nuovi album dal vivo, sto parlando di live in Verona per la prima volta in CD e poi due live molto importanti del 2001, ovvero uno a Hong Kong e uno a Tokyo, sono entrambi particolari, poi vedremo esattamente perché questi sono anche numerati e limited edition, particolarmente buoni da avere e da collezionare, per cui andiamo a fare l'unboxing, apriamo tutti e tre e vediamo cosa c'è dentro e perché sono particolari. Allora iniziamo con live in Verona che non è una novità ma per la prima volta è stato stampato in CD, quindi possiamo andare a vedere come si compone e cosa c'è dentro. Allora troviamo il WCD e diciamo sotto troviamo l'arena che si vede nella sua bellezza, mentre nella parte di dietro vediamo tutti questi dettagli con i brani e una piccola nota riguardante questo concerto. Per quanto riguarda il booklet andiamo a vedere e vediamo allora The Purple with Orchestra live in Verona, qui ci sono chiaramente le canzoni con l'ouverture iniziale, diciamo strumentale. Allora vediamo un attimo The Purple with Dunaidi, nel 18 luglio 2011, quindi insomma ormai 11 anni fa, all'interno appunto non ci sono troppe cose, ci sono poche foto diciamo e c'è anche tutta questa parte da leggere e poi qui vediamo chiaramente la line up che è quella diciamo ormai non più attuale perché Steve Morse ha abbandonato ma la formazione probabilmente più longeva in assoluto dei Deep Purple, quindi Ian Gillan, Ian Pacey, Roger Glover, Steve Morse, Don Ayeri. Mentre qui abbiamo tutti i nomi dei musicisti dell'orchestra, quindi troviamo i vari strumenti e che hanno suonato e qui troviamo un'altra foto della band col direttore d'orchestra. Diciamo un packaging molto carino, essenziale e sicuramente diciamo molto buono a livello di collezione. C'è anche la versione vinile ma onestamente non mi interessava. Poi andiamo ad aprire questo Tokyo International Forum Tokyo Japan 2001, quindi c'era ancora John Lord e andiamo ad aprire insieme per vedere edizione limitata e numerata e questa qui è la copia 490 di 10.000, quindi anche abbastanza bassa come numero, quindi diciamo buono. Questi live diciamo che hanno la peculiarità di essere stampati in cartone semplice senza booklet vengono rilasciati in questo modo perché come sapete ne hanno fatti tipo 3000 e quindi oggettivamente per abbassare i costi hanno limitato al minimo quelli che sono gli accessori e i materiali di produzione. Questo è un live molto importante perché diciamo che in questo concerto ci sono due cose incredibili. Primo la partecipazione di Ronnie James Dio e poi nel secondo disco abbiamo il concerto For Group and Orchestra, quindi lo storico concerto di John Lord inizialmente degli anni 70 diciamo per scritto Peri Deep Purple risuonato dal vivo, adesso non so se era già stato rifatto in precedenza ma sicuramente non era, non è una cosa recente insomma non l'avevano mai rifatto recentemente per cui questo è un live fondamentale molto raro sia per la presenza appunto di Ronnie James Dio e anche per questo concerto per orchestra che non era mai stato risuonato. Procediamo con l'ultimo, Hong Kong Coliseum, Hong Kong Cina 2001, quindi stessa formazione con John Lord, anche questo è un'edizione limitata e numerata e diciamo questa la peculiarità di questo live è che chiaramente suonare in Cina non è mai così scontato. Allora questo ha una numerazione molto più alta, infatti 7.655 su 10.104, parecchio strana anche come tiratura e di base questo live non ha peculiarità come questo dove abbiamo il concerto storico per orchestra e Ronnie James Dio presente ma è un live particolare perché appunto hanno suonato in Cina dove sappiamo per vari regimi e varie imposizioni e censure del governo cinese insomma non è poi così facile riuscire ad arrivare. Poi per carità riguardo la tracklist diciamo non ci sono nemmeno troppe novità o troppe cose rispetto ai soliti live dei Deep Purple perlomeno fino a questo anno quindi vi ricordo il 2001 e troviamo tutti i brani che potete vedere qui ma fanno parte diciamo e sono quasi sempre tutti i brani presenti nella scaletta dei Deep Purple quindi a livello di tracklist non ho nulla da segnalare. Diciamo che per collezionare e avere tutti i live che i Deep Purple hanno immesso sul mercato credo che ci voglia una stanza dedicata solo a loro perché loro rilasciano circa, boh non lo so adesso faccio una battuta ma faranno uscire 20 live all'anno quindi è veramente un mercato molto complesso da seguire perché specialmente con questo tipo di formato dove vi dicevo prima hanno ridotto all'osso la qualità cioè nel senso qui abbiamo un cd completo vero con il booklet la carta buona eccetera invece questi qui sono dei live immessi sul mercato proprio per fare numero evidentemente poi per carità la qualità sia audio che anche al tatto perché non sto dicendo che siano brutti solo che sono di semplice cartone non abbiamo il booklet ma secondo me fanno sempre fanno sempre bene diciamo averli in una collezione anche perché sono praticamente più o meno le ultime testimonianze live di John Lord che poi lascerà la band nel 2002 mi sembra e poi dal 2003 in poi c'è Donairi quindi diciamo sono particolarmente importanti specialmente quello quello a Tokyo con Ronnie James Dio e con il concerto per orchestra che secondo me è la vera chicca detto ciò ovviamente poi vi lascerò in descrizione i vari link per acquistare questi prodotti perché sono disponibili tutti anche in vinile ma vi ripeto anche live in Verona che è diciamo un'uscita ufficiale non mi non mi interessava avere anche il vinile perché comunque so che sono quei prodotti che li ascolti un paio di volte poi restano là perché appunto ne hai talmente tanti che non stai a risentirli di continuo cosa che invece magari faccio con un album tipo in macchina mi porto il cd a casa mi sento il vinile quindi ha più senso comunque a questo punto fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate voi di questi titoli e vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi contenuti ora vi saluto ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao 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 Grazie.